buongiorno a tutti ragazzi perdonate qualche problemino tecnico io mi presento sono Stefano Saviozzi dell'ufficio orientamento Naba responsabile di tutte le attività che facciamo di orientamento con con le scuole superiori d'Italia benvenuti a questa questa live farò una mezz'oretta 35 minuti di presentazione dell'offerta accademica di Naba e poi dedicherò l'ultimo quarto d'ora 20 minuti a rispondere alle vostre domande i vostri dubbi allora io adesso condivido con voi una schermata che mi permette di avere una traccia e di presentarvi Naba e le sue proposte accademiche i progetti sviluppati dagli studenti allora ecco qui dovreste vedere il il mio il mio schermo adesso porto in full screen questa presentazione eccoci qua Naba appunto siamo qui per parlare di quella che è Naba nuova creme di belle arti che ha sede a Milano e a Roma la sede storica di Milano nasce 1980 Roma è un paio d'anni che è attiva cos'è Naba e da dove arriva Naba sta per appunto nuova creme di belle arti nasce come dicevo nel 1980 Milano e ad oggi è l'accademia di belle arti private riconosciuta dal ministero più grande più vecchia d'italia è stata la prima accademia privata ad ottenere questo riconoscimento da parte del ministero che consiste nel fatto che tutti i titoli di studio rilasciati da Naba sono riconosciuti in Italia e all'estero questo vuol dire che quando uno studente termina uno dei sette tre anni che vedete ottiene un diploma accademico di primo livello e questo titolo di studio questo diploma accademico è il corrispettivo della laurea triennale che si ottiene frequentando un'università tradizionale in lingue lettere economia ingegneria le università tradizionali al termine il triennio danno un diploma di laurea le accademie danno un diploma accademico cambia il nome non cambia il valore legale del titolo ciò significa che quando voi terminate uno di questi percorsi in accademia se volete se vorrete potrete continuare con un biennio specialistico sempre in Naba in un'altra università in Italia o all'estero tutte le porte rimangono aperte io vi invito sempre a verificare che il titolo di studio che ottenete sia riconosciuto non tanto perché i titoli non riconosciuti non abbiano comunque un valore dal punto di vista delle competenze che acquisite ma perché poi vi si potrebbero precludere delle opportunità di ulteriori percorsi di studio successivi questo è un punto che è sempre bene verificare come dicevo Naba nasce 1980 e nasce su input su iniziativa di un gruppo di docenti artisti che arrivavano dall'academia di belle arti tradizionali e che volevano dare una svolta al mondo accademico andando ad inserire nei percorsi appunto dell'academia di belle arti anche discipline nuove che non erano state considerate degne di entrare nell'accademia tradizionali e inserire corsi come il mondo del design della grafica della moda delle tecnologie che venivano un po snobbati dalle accademie tradizionali decidono quindi di fondare questa nuova accademia che dopo 40 anni di vita quest'anno compie nel 2020 ha compiuto 40 anni e ad oggi è frequentata da oltre 4 mila studenti il campus di milano e da quasi 300 quello romano che dicevo appunto è nato soltanto nel è partito con i suoi corsi soltanto nel lo scorso anno nel 2019 quali sono le peculiarità dell'accademia quali cosa la distingue da dal resto del panorama allora in primis eh il fatto che tutti i docenti che insegnano in naba prima che essere dei professori sono tutti dei professionisti ciò significa che le discipline che andate ad affrontare vi vengono presentate da persone che quella disciplina quella quella attività la svolgono quotidianamente all'esterno dell'accademia vuol dire che c'è un ponte costante tra quello che voi fate all'interno dell'aula e quello che succede al mercato del lavoro ed è un punto imprescindibile il secondo punto di forza dell'accademia è dato dal fatto che eh tutti buona parte dei progetti che i ragazzi vanno a sviluppare a partire dal secondo anno sono commissionati da aziende esterne o in collaborazione con aziende significa che i ragazzi già dal secondo anno hanno la possibilità di metterci alla prova con contenuti con progetti reali non con semplici esercitazioni e questo porta una serie di vantaggi il primo è innanzitutto quello di capire cosa vi aspetterà poi una volta che avrete terminato il percorso accademico cosa vi aspetterà nel mondo del lavoro come vi dovrete porre di fronte a un progetto perché avrete maturato delle esperienze reali durante il percorso accademico che già vi hanno fatto capire quello che poi succederà una volta che entrerete nel mercato del lavoro secondo grosso punto è dato dal fatto che che eh lavorando con aziende con professionisti iniziate a creare una rete di contatti di persone di aziende che un domani potrebbero essere i vostri datori di lavoro i vostri colleghi i vostri competitor iniziate a creare una serie di contatti che sicuramente nel momento in cui terminerete l'accademia saranno per voi fondamentali in terzo luogo fondamentale anch'esso è il discorso del portfolio cos'è un portfolio portfolio l'insieme dei progetti dei lavori che un creativo una persona che lavora nell'ambito della progettazione raccoglie durante la sua carriera e presentarsi una volta che voi per voi ragazzi presentarsi una volta che avete finito il percorso in accademia sul mercato del lavoro con un portfolio un bagaglio di esperienze che non sono solo esercitazioni come dicevo prima ma anche dei progetti reali sicuramente vi dà una marcia in più in sede per esempio di colloquio o di ingresso nel mondo del lavoro non a caso una delle competenze che viene maggiormente evidenziata dalle aziende che assumono ragazzi che sono usciti da nava è l'alto livello di autonomia proprio perché sono già abituati a misurarsi con progetti reali capiscono quali sono le priorità e tutti gli step da seguire un altro punto secondo me fondamentale dell'accademia è dato proprio anche dai gruppi classe in nava il gruppo classe di 30 35 studenti non non pensate alle grosse aule universitarie da 300 persone ma sono gruppi classe ridotti molto simili a quelli che avete ora nelle vostre scuole superiori e cosa vuol dire questo vuol dire creare un rapporto diretto con questo docente professionista di cui abbiamo parlato prima vuol dire confrontarsi direttamente quotidianamente come dico sempre i docenti dopo tre settimane di lezione conoscono nomi e cognomi di tutti cosa fa uno cosa fa l'altro pregi e difetti del singolo per cui quando c'è da andare a presentare un progetto da portarlo avanti sia la certezza di essere costantemente seguiti e in più anche in questo caso si crea un ponte un network con i docenti che ricordo sono tutti professionisti come già detto prima e adesso io farò una carrellata dei sette corsi che l'accademia propone ai ragazzi sono quelli che vedete presentati in questa slide e non la farò tanto dal punto di vista dei piani di studio materie discipline esami che andrete ad affrontare nell'arco del triennio ma la farò presentandovi direttamente di progetti dei progetti realizzati dai vari corsi durante il triennio sono quasi tutti i progetti fatti anzi tutti i progetti fatti con aziende anche perché comunque il piano di studi lo potete tranquillamente poi scaricare dal sito nava.it e leggervelo con tutta con tutta calma partiamo dal primo storico triennio quello in design una precisazione importante vedete che sotto ogni titolo di ogni corso troverete delle specializzazioni in questo caso per design abbiamo il design di internet la progettazione nell'ambito dello spazio o il pro design la progettazione per esempio dell'oggettistica di uso quotidiano il bello di questa possibilità di scelta è che voi non la fate il giorno in cui vi scrivete in nava scelgo se iscrivermi a interior o a prodotto voi vi scrivete a design e il primo anno e mezzo affronterete le discipline comuni sia all'interior che al product dopo un anno e mezzo dopo aver assaggiato entrambi i mondi andrete a fare una scelta sulla parte finale del vostro triennio e vi specializzerete o in un mondo o nell'altro ok perché dico che è molto importante questo perché questo dà la possibilità di capire quali che sono queste discipline anche a coloro che non arrivano per forza da un percorso artistico di indirizzo per darvi un'idea più della metà dei ragazzi che frequenta la nava non ha fatto l'artistico abbiamo ragazzi che arrivano da licei tradizionali come classico scientifico dei studi tecnici studi professionali qualsiasi tipo di indirizzo ok proprio perché in nava si parte comunque dalla bc si parte da zero con un primo anno che è soprattutto di formazione accademica culturale la base culturale accademica tipica del mondo universitario è imprescindibile viene insegnato un modo di ragionare come porsi di fronte alla progettazione attraverso delle basi teoriche poi si vanno ad applicare a progetti reali come quelli che vi mostrerò per esempio un progetto molto interessante è questo sviluppato in collaborazione con giochi preziosi i ragazzi nell'estate del 2019 hanno lavorato per una settimana in collaborazione in assieme a dei designer di giochi preziosi dei docenti della nava per la creazione di una collezione di zaini ed astucci che sono stati lanciati poi durante l'estate 2020 commercializzati all'inizio di questo anno scolastico destinati soprattutto i ragazzi delle medie elementari e sono questi zaini questa linea go pop se andate sui siti di e-commerce la trovate tranquillamente sono degli zaini per la scuola funzioni molto funzionali che hanno anche come peculiarità quello che vedete quello quel nastro fluo colorato che vedete oltre a essere utile per infilarci una felpa una giacca è anche un nastro un filo caricabatterie che si collega al power bank integrato all'interno dello zaino per esempio questo è un progetto che per i quali i ragazzi hanno hanno studiato le necessità di chi utilizza questo tipo di strumenti e hanno realizzato poi questo progetto finale un altro progetto interessante è questo questo è un render realizzato da un progetto di tesi di una ragazza che ha lavorato da un lavoro di un progetto di riqualificazione di una biblioteca che aveva anche degli spazi non utilizzati e ha rivisto sia gli spazi biblioteca e questi spazi che non erano eh operativi sono stati trasformati in spazi per co-working in sale ludiche in in un asilo per i dipendenti di questo spazio co-working per aree riunioni aree relax è stato un lavoro di riqualificazione presentato all'interno di questo progetto di tesi vi faccio vedere anche questo progetto molto interessante eh realizzato da un ex studente eh che è stato premiato pochi pochi mesi fa tre quattro mesi fa eh questo che vedete in foto Matteo Brasili è un ragazzo che si è che ha terminato il percorso di design del prodotto lui è un ragazzo marchigiano nato e cresciuto sulle sponde dell'Adriatico e eh ha realizzato questo questo parabordi cloud of sea parabordi sono quegli strumenti che vengono quegli oggetti che vengono attaccati al lungo i bordi del delle degli scafi per 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 evitare che soprattutto in porto quando le barche si si toccano con il mare leggermente mosso si possano rovinare eh la particolarità di questo parabordi è il fatto che è cavo all'interno come vedete e al centro di questo parabordi c'è un filtro in pratica questo filtro eh serve a raccogliere le microplastiche sapete che le microplastiche sono uno dei motivi principali dell'inquinamento e della distruzione dell'ecosistema marino in questo modo l'acqua che passa all'interno eh di questo di questo parabordi viene filtrata il filtro che c'è all'interno cattura le microplastiche poi si può smontare si lava e si rimonta il bello anche dato dal fatto che il filtro è realizzato tranquillamente in maniera molto semplice con una stampante 3d e l'utilizza delle plastiche eh ecosostenibili in quanto sono di derivazione della lavorazione del mais la foto che vedete in questo caso è stata scattata in Darsena Milano e il comune di Milano ha deciso di eh posizionare lungo i bordi della Darsena questi questi oggetti proprio per tenere pulita eh l'acqua della della Darsena e eh permettere appunto di filtrarle ed eliminare tutte le particelle l'impurità che ci sono all'interno questo è un esempio di un progetto che è stato realizzato e premiato eh negli ultimi mesi da diverse aziende di design che eh andrà in produzione da design passiamo al triennio in graphic designer direction triennio dedicato alla grafica e alla comunicazione e alla pubblicità in pratica in tutte quelle situazioni in cui un'immagine viene utilizzata come veicolo per un messaggio anche qui abbiamo tre grandi ambiti il mondo del brand design la realizzazione di un marchio di un logo dell'immagine coordinata di un'azienda la parte di creative direction per cui di gestione di una campagna di comunicazione e di visual la parte di visual è proprio quella quella parte più tradizionalmente legata alla figura del grafico cioè a quel professionista che va fisicamente a realizzare delle illustrazioni delle immagini ok qui abbiamo tre progetti molto particolari questo è un progetto che arriva da una collaborazione storica che Nava ormai ha da diversi anni con i centri Porsche di Milano per la realizzazione delle livree eh di edizioni limitate di modelli hanno realizzato il logo per eh l'azienda appunto per i centri di Porsche Milano e per i per la celebrazione dei loro vent'anni di attività eh e quest'anno hanno anche realizzato degli spot pubblicitari che verranno pubblicati eh a breve abbiamo poi questo progetto realizzato con Venchi che è un'azienda storica nell'ambito della produzione del cioccolato per la quale i ragazzi durante prima della Pasqua 2020 hanno realizzato tutti i packaging per tutta una collezione di eh particolari uova di cioccolato fatte con differenti tipologie di cacao provenienti da da tutto il mondo hanno realizzato sia il packaging per le uova che le scatole che vedete nelle foto e tutta la campagna di comunicazione ad essi legate ed erano delle uova che erano in commercio che trovavate sia sullo store online dell'azienda che nella grande distribuzione al supermercato questo è un altro progetto invece realizzato con Pigna i ragazzi hanno realizzato una serie di eh illustrazioni per Pigna la conoscete penso tutti tutti più o meno a scuola hanno avuto tra le mani un prodotto di cartoleria di questa azienda un'azienda storica italiana e eh in questo caso è stata commissionata ai ragazzi la realizzazione di una serie di illustrazioni per le copertine dei quaderni come potete vedere dalle immagini sono molto giocose hanno sono destinati soprattutto ai ai più piccoli ai bimbi dell'elementare ve ne faccio vedere alcune che ce ne ho anch'io questa con con gli ufo poi abbiamo quest'altra ambientata nel bosco poi vediamo cosa che c'è questa invece è un'ambientazione preistorica ecco vedete che tutti questi progetti sono stati realizzati in collaborazione con Nava infatti trovate dietro adesso questo se forse non dovreste vedere è il logo il vecchio logo dell'accademia che è stato cambiato quest'anno e vedete in alto a sinistra però eh li riconoscete questi progetti appunto come eh frutto della lavorazione eh della collaborazione tra il triennio di Graffiti Design Direction e questa azienda un altro progetto che è diventato iconico del triennio perché ormai sono tanti anni che Nava collabora con l'azienda sono le lattine di di San Benedetto ogni anno l'azienda commissione ragazzi del triennio la realizzazione delle grafiche per le lattine che vengono commercializzate durante l'estate eh questo è uno degli ultimi modelli eh delle ultime lavorazioni fatte e anche questo è facilmente riconoscibile perché sul retro eh è presente il logo dell'accademia e sicuramente è un progetto a larghissima diffusione anche questo eh come funziona quando si lavora con un'azienda non era molto semplice prima giorno di lezione arrivano in accademia i responsabili dell'azienda presentano il brief il tema il progetto e l'obiettivo che loro vogliono raggiungere vengono calendarizzate una serie di incontri nelle settimane nei mesi successivi incontri di revisione in cui i responsabili dell'azienda incontrano i ragazzi valutano come sta procedendo il lavoro danno delle indicazioni dei suggeriti si arriva all'evento finale in cui ogni gruppo di lavoro ricordo sono tutti i progetti di gruppo questi gruppi di tre quattro ragazzi lavorano questi progetti eh in cui tutti i gruppi presentano il loro la loro idea e l'azienda poi autonomamente sceglie quello che maggiormente soddisfa le richieste del brief iniziale una volta selezionato il progetto va in produzione ok naturalmente ci sono sempre dei riconoscimenti per i progetti selezionati che sono di due tipi o dei riconoscimenti economici nei premi per darvi un'idea l'accademia durante lo scorso anno ha erogato oltre 90 mila euro in denaro in premi ai ragazzi oppure in sono i premi consiste in un'esperienza professionale i ragazzi vincitori ragazzi selezionati hanno la possibilità di eh lavorare per un periodo durante il periodo accademico per alcuni mesi in stage all'interno delle aziende che hanno promosso il progetto andando oltre la grafica passiamo al mondo di fashion design eh il mondo della moda in Naba è eh un altro dei corsi storici ed ha tre possibili percorsi sempre come dicevo prima a partire dal secondo anno primo anno anno e mezzo si affrontano tutti questi mondi il mondo di fashion design a figura dello stilista di reazione e creazione di abiti ed accessori si parte dal disegno fino a quando viene messo addosso al modello in passarella come vedete nella prima foto si lavora alla progettazione allo studio del tessuto alla parte di modellistica arrivando eh poi alla parte di sartoria di confezione finale la foto che vedete è legata al fashion moda graduate 2020 l'ultimo evento che siamo riusciti a realizzare in presenza prima dell'esplosione nuovamente purtroppo della pandemia e non è altro che un evento in cui tutte le migliori accademie di moda italiane presentano i loro migliori progetti e in collaborazione con la Camera della Moda e quest'anno il concorso è stato vinto da una ragazza proprio di Naba che eh ha realizzato un particolare outfit che utilizza delle stampe eh innovative delle metodologie di stampa assolutamente eh nuove e questo questa tecnologia che la ragazza ha applicato al suo outfit è stata selezionata come eh miglior progetto abbiamo nel secondo caso invece una foto legata al mondo di fashion style and communication fashion style and communication è quel quell'indirizzo legato alla comunicazione alla gestione di una campagna di comunicazione nell'ambito moda alla promozione di un determinato eh prodotto nell'ambito fashion può essere la realizzazione di un set fotografico di una campagna per esempio l'organizzazione di un evento di moda poi l'ultimo invece che vedete fashion design management è l'ultimo nato partirà il prossimo anno questa possibilità di scelta di indirizzo è invece più legato al mondo del fashion business alla gestione di una casa di di moda alla parte di marketing un altro progetto interessante che vi mostro è qui realizzato da eh Andrea Piva che è un ex studente Naba che ha eh col suo progetto di tesi che era questa giacca realizzata con tecnica sartoriale ha vinto diversi concorsi e grazie a questo progetto è è riuscito a farsi notare ed è stato eh assunto tuttora lavora da Dolce Gabbana come modellista come fashion designer e per cui grazie proprio al suo progetto di tesi e alla possibilità che ha avuto tramite l'accademia di partecipare a questi concorsi adesso lavora all'interno di una delle case di moda più importanti a a livello mondiale. Passando da fashion interiamo nel mondo della multimedialità partendo da media design arti multimediali che è il triennio storico in Naba che si dedica alla progettazione e produzione di di audiovisivi eh con tre indirizzi filmmaking il mondo del cinema regia sceneggiatura il mondo dell'animazione in 2D e il mondo del game design che è quel quella branca dell'ambito gaming che si dedica all'invenzione del videogioco alla scrittura di una storia di una sceneggiatura di uno storyboard con i personaggi non tanto la parte di sviluppo tecnico che andremo a vedere poi successivamente sempre un progetto interessante è questo che è stato appena premiato all'ultima edizione del festival cinema di Venezia durante la settimana internazionale della critica in cui eh questo ragazzo Alessandro ha presentato eh un cortometraggio lui è un ragazzo italiano nato e cresciuto a Milano eh figlio di una che arriva da una famiglia cinese eh i cui genitori invece sono immigrati in Italia dalla Cina e lui ha raccontato all'interno di questo cortometraggio la sua esperienza nel momento in cui ha dovuto riportare le ceneri del proprio padre eh a in Cina e si è ehm e ha incontrato per la prima volta eh le sue origini non era mai stato in Cina e è stata la prima volta in cui si è misurato con la cultura della provincia cinese e ha raccontato questa sua esperienza in cui si è eh trovato a scoprire una cultura completamente diversa da quella in cui lui era nato e cresciuto ma che era anche la cultura dei suoi genitori che invece era quella da cui loro provenivano e racconta tutta tutta la storia di questa di questa esperienza un prodotto assolutamente riflessivo eh passando oltre il mondo di media invece vi racconto di creative technologies è l'ultimo nato all'interno dei trienni Naba e eh potremmo definirlo una costa che si è staccata da da media design ormai quattro anni fa ed è questo triennio dedicato alla produzione audiovisiva in ambito eh digitale con tre grossi indirizzi. Prima il model VFX effetti speciali post produzione come vedete in questa foto una foto di una persona al telefono sul divano è stata poi rielaborata successivamente questo non è una foto statica ma è un frame di un video eh sono state inserite delle fiamme degli effetti meteorologici un un oggetto volante sullo sfondo e via dicendo e il mondo della post produzione di effetti speciali eh ormai indispensabile in qualsiasi prodotto audiovisivo eh contemporaneo che sia un film che sia anche una semplice pubblicità un videoclip e via dicendo abbiamo il mondo poi dell'animazione modellazione 3D in cui i ragazzi vanno a lavorare sia sulla eh la progettazione ma anche poi sulla realizzazione di eh personaggi e ambientazioni tridimensionali e la loro successiva animazione e poi abbiamo il mondo del game development questo eh è legato eh è legato proprio a quello che dicevamo prima del game design in cui viene creata una storia di un videogame e qui i ragazzi la vanno a sviluppare in ambiente digitale attraverso software come Unity o con Unreal con per esempio la tuttina del motion capture vanno a creare le ambientazioni vanno a creare i personaggi e anche tutta la parte di interazione tra i personaggi e lo spazio che li circonda ehm questo naturalmente è un percorso assolutamente creativo ma che eh è completato anche da alcuni insegnamenti in alcune materie legate da parte proprio di anche di di programmazione. Poi dall'ambito del creative ci spostiamo nel mondo della eh delle discipline forse più tradizionali anche se andremo a vedere in realtà sono assolutamente integrate con il mondo contemporaneo. Primo è il triennio in scenografia in cui ragazzi eh acquidiscono tutte le competenze nella realizzazione di un allestimento che non è semplicemente quella del teatro di prosa o dell'opera lirica ma anche il mondo dei dei media, degli eventi. Qui abbiamo tre esempi completamente diversi. Abbiamo questo primo è la realizzazione della scenografia all'interno di di una mostra realizzata eh a Milano a Palazzo Reale al Museo di Storia Naturale per cinquecento anni della morte di Leonardo da Vinci in cui i ragazzi si sono occupati della realizzazione dell'ambientazione. Abbiamo poi il set di ehm un prodotto di di un film in cui questa studentessa si è occupata della parte di costumi all'interno del reparto di scenografia e poi abbiamo invece quest'ultimo esempio assolutamente contemporaneo per tutte quelle che sono le scenografie digitali all'interno di X Factor ma sono diversi anni che alcuni ragazzi dell'accademia vengono coinvolti nella realizzazione delle scenografie digitali di X Factor compresa l'edizione che è in corso quest'anno. Passiamo poi al triennio di pitture artivisive, triennio che forse è più iconico per un percorso accademico ma che andremo a dire che in realtà oltre ad avere tutto un percorso legato alla produzione di opere d'arte tradizionali attraverso la pittura, la scultura, abbiamo anche le discipline più le forme d'arte più contemporanee come il mondo della performance, questa che vedete è una performance realizzata all'esterno nel piazzale del Maxi durante l'estate 2019 da studenti e coordinato dai docenti di Naba. Maxi è il museo di arte contemporanea più importante l'Italia, ad oggi a Roma, oppure abbiamo anche il mondo della performance, dell'installazione come in quest'altra immagine. Una cosa importante che ci tengo a sottolineare è che questo triennio non è un triennio che forma solo degli artisti ma forma dei professionisti nell'ambito del mercato dell'arte. Per cui oltre ad avere delle competenze legate alla produzione di opere d'arte, i ragazzi hanno anche tutte quelle competenze legate al mondo della divulgazione, della storia dell'arte, della comunicazione dell'arte e del mercato, la figura per esempio del gallerista o del curatore. Qui ho fatto una breve carrellata di tutte quelle che sono le varie possibilità dal punto di vista didattico nei 7-3 anni dell'Accademia, ma per entrare in Naba c'è un test di ammissione da superare. Il test di ammissione è fattibile in diverse sessioni, le prossime che ci sono sono a febbraio, a marzo, a maggio e a luglio. Queste quattro date vi danno la possibilità di partecipare al bando per le borse di studio. Poi abbiamo la sessione di settembre che non prevede nessuna borsa di studio, però la struttura del test non cambia. Come funziona? Voi vi scrivete attraverso il sito internet di Naba, pagata la tassa di iscrizione che è di 90 euro. Il test consiste in un progetto che viene richiesto di realizzare. In pratica voi vi scrivete, io dico sempre scriveteli almeno tre settimane o un mese prima, non fatelo il giorno prima, perché dieci giorni prima della data del test vi viene inviato un'email con un progetto da fare a casa. È un progetto dove la differenza la fa l'idea creativa, per cui chi non arriva ad un percorso artistico, non si spaventi, ok? Perché è un progetto che tecnicamente non richiede mai competenze di chissà quale livello, praticamente è fattibile da chiunque. La differenza la fa l'approccio creativo e l'idea che voi andate a portare. Avete dieci giorni per fare il test, poi il giorno fissato farete un colloquio con i docenti in cui presenterete il vostro lavoro. Purtroppo, vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo, il colloquio per le sessioni di febbraio, marzo e maggio sarà sicuramente in modalità virtuale. Speriamo con l'estate prossima, almeno per luglio, di poter tornare a fare i colloqui in presenza all'interno dell'Accademia, se no sarà in modalità virtuale. Farete questo colloquio, che poi diventa anche molto informale, in cui presentate il vostro progetto, vi presenterete voi, dovrete anche preparare una piccola lettera motivazionale in cui raccontate le vostre esperienze, cosa vi porta verso il mondo Naba, perché avete intenzione di fare un percorso di tipo creativo. E in più, chi arriva da una scuola di liceo artistico, perché ce l'ha, perché anche se non sta facendo liceo artistico o similare, ma già si diretta nella progettazione, nel disegno, nella creazione, può presentare un piccolo portfolio, una serie, una selezione dei migliori lavori che ha realizzato negli ultimi anni. Finito questo colloquio, entro pochi giorni vi arriva un'email con scritto ammesso o non ammesso. Borse di studio, come funzionano? Se voi fate il test a febbraio o a marzo, la graduatoria per le borse di studio viene presentata a fine marzo. Se lo fate a maggio o a luglio, la graduatoria sarà a fine luglio. Come funziona la partecipazione alle borse di studio? Quando vi scrivete al test, dovete allegare alla domanda di iscrizione anche la richiesta di borsa di studio. Sono tutti i documenti che trovate sul sito naba.it. Senza problemi, trovate tutti i documenti e vi ricordo però che non è automatico fare il test in queste sessioni ed essere all'interno della graduatoria. Bisogna allegare questo documento. La graduatoria poi viene fatta esclusivamente sulla base del giudizio che avete ottenuto in sede di test di ammissione. Non andiamo a guardare la maturità o altro. Per darvi un'idea, le borse di studio erogate dall'Accademia sono almeno 200. Così è stato l'ultimo anno. La borsa di studio consiste in uno sconto sulla retta di frequenza che voi prendete al primo anno, appunto in seguito alla valutazione che ottenete al test di ammissione, ed è garantita per tutti e tre gli anni. Naturalmente per mantenere questo sconto al secondo e al terzo anno non dovete andare fuori corso e mantenere una buona media. Ma se il vostro percorso di studi rimane in linea con il regolamento della borsa di studio, questo sconto è garantito per tutti e tre gli anni. Ed è una cosa importante che vi permette di facilitare quelle che sono le rette accademiche. Per cui questa è la parte legata più burocratica alle ammissioni. Adesso vi faccio vedere altre cose interessanti in merito all'Accademia partendo innanzitutto dal campus. Vi faccio vedere alcune foto della sede di Milano, dei laboratori. Questo è il laboratorio di design, uno dei laboratori di design, sono quattro. Questo è uno dei laboratori legati al mondo di creative e alla parte di post-produzione audio e video. Questa è la tessuteca, uno spazio veramente affascinante in cui sono conservati oltre 4.000 campioni di tutti i tessuti in cui sono a disposizione dei ragazzi che possono andare a vedere e valutare qual è il tessuto migliore per il progetto che vogliono andare a realizzare. Questo invece è uno dei macchinari shimaseiki utile alla realizzazione di capi ed accessori, uno strumento assolutamente innovativo collegato a dei software che permettono la realizzazione di capi molto particolari. Questo per quel che riguarda il campus di Milano. Per il campus di Roma vi faccio vedere alcune foto dei laboratori. Questa è una selezione di laboratori, non è che quello che c'è a Milano non c'è a Roma. Ci sono in entrambe le sedi, però è una selezione di quella che state vedendo. Questa è la sartoria della sede di Roma, una delle sartorie, questa è la biblioteca. Qui avete il laboratorio, lo spazio in cui i ragazzi possono andare ad allestire set per prodotti cinematografici o fotografici. Questo invece è legato al mondo delle pitture artivisive e al macchinario per le incisioni, presente a Roma e presente anche a Milano. Una cosa importante che non vi ho detto è il fatto che di questi sette trienni sono tutti e sette presenti nella sede di Milano, mentre nella sede di Roma abbiamo il trienni Graphic Designer Direction, Fashion Design, Media Design e pitture artivisive. Sono questi quattro i corsi presenti invece nella sede di Roma. In merito agli eventi vi invito poi a partecipare. Ecco qui c'è un errore che devo correggere, il fatto che il prossimo Open Day, prima di quello del 20 marzo che c'è, ce ne sono altri due. Il primo è il 12 dicembre, sabato 12 dicembre, un Open Day in streaming in cui potrete seguire delle dirette fatte dai responsabili dei vari corsi, sentire la presentazione nel dettaglio di ogni singolo corso, con la possibilità di interagire con loro, domande, risposte, vedere video di progetti. Quindi è una giornata virtuale interamente dedicata alla presentazione di Naba. Dalle 10.30 alle 17.30 vi potete iscrivere dal sito naba.it, poi vi arriveranno tutti i link e il programma della giornata. I Naba Experience, che sono delle giornate di full immersion nei singoli corsi che ci saranno a gennaio e ad aprile. E poi Naba Vision, che è la settimana a giugno, dedicata ai ragazzi che adesso sono in quarta, che finiranno la quarta a giugno e possono frequentare per una settimana l'accademia, frequentare il triennio che gli piacerebbe poi fare una volta che hanno finito le scuole superiori, ogni giorno durante questa settimana una materia diversa all'interno di quel triennio, ora del venerdì avranno realizzato un progetto, questo progetto verrà valutato e se la valutazione è positiva varrà già come test d'ammissione. Questo permette loro di evitare di fare il test che ho spiegato poco prima e ha anche una graduatoria di borse di studio dedicata con un processo che poi si svolge quando loro saranno in quinta superiore. Questa esperienza nell'estate 2020, vista la situazione, siamo stati costretti a farla in modalità virtuale, in ogni caso c'erano più di 200 ragazzi partecipanti, di 150. Speriamo tutti quanti di poter tornare a farla in presenza a Milano o a Roma questa settimana di lezioni. Un'ultima cosa che poi vi presento prima di passare la parola alle vostre domande è questo Naba World. Io vi invito innanzitutto a seguire la pagina ufficiale Naba e poi adesso vi mostro questo progetto di Naba Events che potete trovare anche mettendo il like, vi invito a farlo per rimanere sempre aggiornati su tutte quelle che sono le novità nel mondo dell'orientamento per i ragazzi del liceo, alla pagina orientamento.naba di Instagram. Allora, io vi faccio vedere quella che è... interrompo questa, anzi no, facciamo così. chiedo se si vede dalla regia questa pagina, se vi potete dare un cenno. Sì, sì, si vede. Grazie mille, ecco. Questo che vi presenta è un progetto che è nato, è partito il 2 novembre, è un progetto di webinar quotidiani, nel senso che Naba è online tutti i giorni alle 17. Oggi, per esempio, siamo online con questo webinar. Tutti i giorni alle 17 abbiamo webinar di interviste, interventi di ex studenti, lezioni fatte da docenti, dalle 17 alle 18. Oggi abbiamo questo evento legato al fashion design. Tra l'altro avremo come ospite, oggi lo trovo velocemente, ve lo faccio vedere, avremo come ospite lui, Simone Pellegrini, che è un ex studente di Naba, che si è diplomato lo scorso anno, e che adesso si occupa di comunicazione e di styling nell'ambito fashion. Si è occupato all'organizzazione di tutti gli eventi nell'ambito sportwear per fila, per tutta la campagna di comunicazione e di styling per Gali, a partire dalla sua partecipazione a Sanremo lo scorso mese di febbraio. E l'ultimo progetto che ha realizzato è la campagna pubblicitaria per Raiban, per gli occhiali da vista, con i video che girano anche sui social. Stasera alle 17 ti sarà un'intervista a Simone. Vi basta collegarsi a questo link che vi vado a mettere nella chat, nella quale poi io non riesco ad entrare, lo dico alla regia, se fosse possibile. Ah no, 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 riesco invece, è stupidato, ho detto un errore io. Ecco qua, vi metto questo link, che è il calendario del progetto Naba Events, questa sera legato al mondo del fashion design, domani sera invece andremo a trattare lo sviluppo di un videogame, come funziona la progettazione e lo sviluppo di un videogame. Avete la possibilità di scoprire maggiori informazioni e di registrarvi. Appena vi registrate vi arriva un link tramite email di Zoom al quale collegarvi, tutte le sere alle 17, come diciamo all'ora del tè, noi siamo live con questo progetto di webinar, poi abbiamo lunedì un intervento di un ex studente che racconta la sua esperienza come grafico. Martedì un workshop un po' folle, un webinar un po' folle nell'ambito del design. Abbiamo nell'ambito arti visive la presentazione, il 3 dicembre invece, legata alla presentazione di un libro scritto dal direttore del corso di studi di arti visive, e via dicendo. Ad oggi abbiamo pubblicati sul calendario i progetti webinar fino a Natale, fino al 18 dicembre, poi dopo la Befana ricomincerà questo palinsesto e tutti i giorni, dalle 17 alle 18, siamo online. Una cosa importante è che, come è indiscritto qua all'inizio, la partecipazione ai webinar e ai workshop viene considerata valida come un'ora di PCTO, perché cosa succede? Il giorno successivo ad ogni webinar, ad ogni workshop, i partecipanti riceveranno un'email in cui ci sono innanzitutto delle indicazioni per approfondire le tematiche trattate durante quella lezione degli spunti, e in più la certificazione di avvenuta partecipazione che potete utilizzare per il vostro monteore appunto legato al PCTO, esclusivamente per i ragazzi di quarta e di quinta. Sottolineo una cosa, questa cosa vale per i webinar e per i workshop, mentre per le presentazioni dell'offerta formativa dove vedete l'orientamento, queste invece sono le presentazioni, non c'è nessuna attività di PCTO. Questa è una cosa importante che ci tengo a sottolineare. Io vi invito a partecipare a questi webinar, perché indipendentemente da tutto sono veramente interessanti, e avrete la possibilità di conoscere studenti, di imparare come funziona il mondo accademico, di scoprire anche delle professioni e delle esperienze che magari non pensavate. Un altro, per esempio, un'altra cosa molto interessante è a dicembre, il 17 dicembre, abbiamo come ospite Andrea Piva, il ragazzo di cui vi ho parlato prima, che adesso lavora da Dolce Gabbana, che racconterà il suo progetto. Per cui, dal link che vi ho dato, potete avere il calendario, circa ogni torno alla metà di ogni mese, andiamo ad aggiornarlo con le attività che ci sono nel mese, mese e mezzo successivo. Tenetelo sempre sott'occhio quel sito, ma basta anche che fate il like alla pagina orientamento.naba su Instagram, e quotidianamente andiamo a postare quelli che sono gli eventi che ci sono nei giorni e nelle settimane successive. Per cui, anche in questo modo, potete rimanere sempre connessi con Naba. Io sto pensando un pochino a quello che vi ho raccontato, vi ho detto più o meno tutto. Volevo chiedere alla regia se è tornata operativa a parte di domande live. No, non è ancora in manutenzione. È ancora in manutenzione. Bene, allora, vi faccio vedere qualche altro lavoro nel frattempo. Ragazzi, comunque mi confermate che mi stanno seguendo, giusto? Allora, vi faccio vedere un po' di progetti interessanti sviluppati da ragazzi dell'Accademia. Allora, vediamo un po'. Vabbè, innanzitutto, come studentessa, è importante ricordare il nome di Chiara Leonardi, diplomata in media design e team multimediali, con un cortometraggio a lice che ha ottenuto anch'esso un premio alla settimana internazionale della critica a Venezia nel 2016 e poi ha lavorato come assistente alla regia di Matteo Garrone nel film Dogman e poi sempre come assistente alla regia anche per Pinocchio e nel fashion film che racconta la storia della Maison Dior. Questo è un progetto molto interessante. Altro progetto veramente di successo sono questi due, realizzati da un gruppo di ex studenti nell'ambito game che hanno realizzato prima questa esperienza con i visori VR all'interno della città di Milano qui potete andare a scoprire la città di Milano al tempo di Leonardo da Vinci e vedere le sue opere più famose girando nella città con questo strumento che vi permette sia di vedere ma anche di avere un'audio guida che vi racconta quella che era la città del Cinquecento. Sempre questi ragazzi hanno realizzato un altro progetto di grande successo che è questa esperienza virtuale presentata a Luca Comics nel 2019 che gli è stata commissionata da Topolino in cui i ragazzi attraverso questa escape room virtuale ambientata all'interno della casa di Paperino era appunto legata alla celebrazione dell'85 anni della nascita di questo personaggio all'interno della casa di Paperino c'era una serie di livelli da superare e si arrivava poi all'obiettivo finale era un'esperienza assolutamente divertente e coinvolgente ho avuto la fortuna di provarla ed è stato veramente un ottimo lavoro anche perché questi ragazzi erano laureati da un annetto circa è già venuto un lavoro commissionato da un marchio come quello che è Topolino Italia in occasione del Luca Comics che è assolutamente un'esperienza di tutto rispetto un'altra cosa che ci tengo poi a mostrarvi è la possibilità di fare questa esperienza di test vi linko anche questa all'interno della chat questa naba story chiedo confermi i ragazzi vedono però la mia chat se voi andate su naba.it slash story e questo link lo trovate anche nella bio della pagina orientamento.naba di Instagram avete la possibilità senza dover inserire per forza il codice fate pure continua senza codice di fare questo giochino in stile Tinder cuoricino freccetta e poi dopo aver selezionato una serie di immagini verrete rimandati ad un form che dovrete compilare anche per ricevere il piano di studi dell'accademia e successivamente a questo test in base alle immagini che avrete selezionato vi verrà indicato quello che è il corso più adatto a voi in linea con le immagini che avete selezionato ecco vi dico che le immagini che vedrete all'interno del gioco sono tutte immagini di progetti realizzati dai ragazzi dell'accademia perché sono progetti provenienti da tutte e sette le aree la grafica la moda il design e via dicendo tutti i vari corsi che abbiamo realizzato per cui naba.it slash story che trovate anche sulla pagina instagram di orientamento punto naba e vi ricordo poi ancora invece questo naba events che trovate naba.it slash naba events al quale potete collegarvi per vedere tutto il calendario degli eventi lo trovate anche dalla home page del sito naba esattamente in fondo qua in fondo tutti i giorni e da qui potete andare al calendario e vedere quelle che sono le proposte ok sono le 12.25 io non so se i problemi sono stati risolti spero di poter rispondere ad alcune delle vostre domande però non vedo nulla qui all'interno della chat non vedo nulla perché l'altra pagina come dicevo non riesco a raggiungerla purtroppo non ci sono ancora ragazzi io rimango qui a disposizione sperando che negli ultimi 2-3 minuti prima della chiusura del mio intervento che è fra 4 minuti si possano risolvere queste problematiche tecniche che non so purtroppo so che siete in tantissimi in questi giorni collegati all'evento e ci sono alcuni inconvenienti io nel frattempo sto andando a vedere se ho altri contenuti interessanti da poter condividere con voi ecco un'informazione assolutamente importante che non ho detto è il fatto che tutti i corsi in Abba sia a Milano che a Roma possono essere frequentati in lingua italiana o in lingua inglese questo è un altro punto assolutamente importante poi condivido con voi questa immagine per darvi comunque un'idea del fatto che l'Accademia al suo interno ha oltre ad avere dei percorsi triennali ha anche dei percorsi allora percorsi post triennio che sono esattamente questi adesso ingrandisco così riuscite a vedere questi che vedete sulla sinistra sono i percorsi triennali di cui abbiamo parlato in dettaglio ma ci sono anche tutta una serie di percorsi di bienni specialistici e di master accademici di primo livello questo vuol dire che all'interno dell'accademia non è soltanto il triennio che potete fare ma potete fare il completo percorso universitario il classico 3 più 2 e continuare poi a specializzarvi una volta che avete terminato la prima parte del vostro percorso universitario e tutti quanti come dicevo sono disponibili sia in lingua italiana che in lingua inglese poi Nava essendo un'accademia riconosciuta dà anche la possibilità naturalmente di partecipare a progetti di scambio internazionale come l'Erasmus per il quale voi andate a frequentare lo stesso corso che frequentate in Nava in un'altra università o accademia all'interno dell'Unione Europea in più Nava avendo delle partnership con università e accademia in tutto il mondo allarga questa possibilità anche a paesi extraeuropei dall'estremo oriente al Sud America al Nord America e via dicendo in Oceania in tutto il globo è possibile partecipare a questo tipo di esperienze ad oggi purtroppo la sede di Milano come potete immaginare Lombardia è zona rossa è chiusa tutti i ragazzi seguono la didattica online e questo è anche fattibile grazie al fatto che l'Accademia aveva delle strumentazioni tecnologiche di didattica online già operative prima che questa emergenza scoppiasse non a caso i ragazzi non hanno perso la scorsa primavera durante il primo lockdown non hanno perso nemmeno un'ora di lezione proprio perché dall'oggi al domani l'Accademia è stata in grado di portare completamente tutte le attività tutte le lezioni in modalità virtuale senza problemi poi durante l'estate e prima purtroppo della ripartenza dell'emergenza i ragazzi hanno anche recuperato le parti laboratoriali che non erano riusciti a svolgere durante durante quei mesi idem adesso succede per quest'anno addirittura quest'anno ci sono stati ragazzi che hanno potuto iscriversi con dei programmi destinati proprio a loro esclusivamente in modalità online fin dall'inizio delle lezioni ad ottobre ecco questo è un po' tutto il panorama delle opportunità didattiche che l'Accademia mi ha offerto io vedo che sono le 12.30 non so se è risolta la problematica delle domande mi dicono dalla regia senza le domande io ringrazio tutti voi che siete rimasti collegati purtroppo mi dispiace non aver avuto modo di interagire con voi vi invito quindi a seguire i webinar su Nava Events come che vi ho mostrato in quell'occasione abbiamo la possibilità di interagire direttamente con tutti voi nelle giornate di orientamento potete fissare un colloquio o eventualmente se avete dei dubbi vi lascio anche la mail che poi la collega della regia vi condividerà sia per la sede di Milano che per la sede di Roma tra l'altro la sede di Roma ad oggi è aperta per cui se volete fissare dei colloqui con i colleghi romani potete tranquillamente fissarli e recarvi a visitare la sede io vi ringrazio per la vostra partecipazione buon buon proseguimento grosso in bocca al lupo ai ragazzi di Quinta per il proseguimento e per l'esame di Stato e spero di vedervi tutti quanti il 12 dicembre per l'esame di virtù ciao 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 ciao